Eeeh, what's up? Tutti ci sono me e benvenuti ragionieri in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season Non voglio perdere tempo ragazzi, la volta scorsa abbiamo conosciuto una nuova comunità tra virgolette Tutta formata da ragazzini a quanto pare Sembrerebbe ragazzi che abbiamo trovato alla fine, finalmente direi Un posto sicuro in cui forse poter restare, però a me sinceramente la cosa puzza troppo ragazzi Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a continuare Eravamo rimasti l'ultima volta che ci hanno fatto una sorta di interrogatorio tra virgolette gli altri ragazzi con la scusa del gioco Eeeh, non ci resta che andare a dormire mi sa Eccoci qua Quindi questa è diventata ufficialmente la nostra stanza praticamente Ma direi che possiamo stare abbastanza tardi Mi sa di sì Gli è rimasto il tanno in testa ragazzi, abba giustamente se è stato cresciuto così Questa boxe ha tantissimi colori Ah sì Beh, deve essere stato un artista vivendo qui Cosa è un artista? È come una persona che colora molto, scrive, fa foto Ehm, non si usa a bussare Ehm, non si usa a bussare Sì, ma qualche colore puoi prenderlo Dovresti restituirla ragazzi Già Mi dispiace tesoro, eh, però Ehm, grazie Ebbè ragazzi, quel che è giusto giusto, eh Oh, grazie Oh, grazie Ha, vedo che ti si sceglie Ma oddio Sì, è ok? Sì, credo Ho sempre piaciuto questa stanza Sofì aveva, come, pitture e sceglie sulle città Molte colori E Minerva Sì, lei era realmente musicale Non come Luis, though C'era un talento Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha ha, ha, ha ha Unaあと l'amai l'amai lancione Real bluesy Marlon always dò che Gli dati scurope na si Gli che i te due Gli annunciano That era un tanto tempo L'anno Dopodiché Adesso Brody e Tan Patti and Tan E questo era l'inizio Non è una buona memoria, non è una buona memoria. Penso che ho perduto il mio treno di pensiero. Non, non so come che spettacare. No, si sembrava che erano bello amici. Sì, Sophie era bello amici. E Minnie, eh, siamo vicini. Me e lei. Cosa è successo con loro, Sophie e Minerva? Sì, erano scavengati con Marlon e Brody, non è successo con la sua scena. Non è successo. È successo. È vero, mi piace solo avere qualcuno per parlare con. Ci sono molti ragazzi. Questo posto può essere un po' troppo per la mia amica. E non sono un personale. Sì, sai che ho avuto un habit, Ah, sì, in gamba. Ah sì? Vediamo un po' questo disegno incredibile. Sì. 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 Ok, Alvin, Junior. Time for bed. Ok. Here. For me? For the wall. To make our home look nice. That's a good idea, AJ. Ci ha messo impegno. Oh, sì, senza altro. Appendiamo alla forza. How about here? Here. Uh, AJ? Hey there. What are you doing? This is where I'm gonna sleep. What? No, it's not. It's safe under here. No one can get me. Anche qui fuori si può. Well, it's safe out here, too. Did you see the size of this place? It's huge. And there are plenty of brick walls to keep us safe. What about the door? What if someone comes in? What if they try to hurt us? What if they steal our stuff? I'll keep watch. I'll sleep with one eye open if I have to. You can't sleep like that. I tried. If I stay here, no one can find me. And I can keep guard and watch over you. I can protect us. Hey, what's gotten into you? Please, Clem. It's not so bad down here. AJ, listen to me. It's gonna be okay. Please, just give the bed a chance. It's soft and warm. I think you'll really like it. The bed is really soft. I told you so. Oh, è davvero, davvero sofferto. Buonanotte, AJ. Clem? Sì? Questo posto è bello. Sì, è felice che abbiamo trovato. Ah, lo sono anch'io. Me, anche. Temo purtroppo che non durerà. Il mio pessimismo si fa sempre sentire, ragazzi. Però, sapete, in un mondo del genere, è troppo bello per essere vero. Non so se capite quello che intendo. Buon temo che succederà qualcosa di spiacevole che ci costringerà ad andare via da qui. Sì, è vero. Sì, è vero, certo? Sì, credo che ci troviamo. Siamo trovati l'office. Sì, è vero. Sì, davvero. Ok, guardami tu. Up here! Sì, sì, dammi un attimo. AJ, wait out. Non c'è bisogno di correre. Tinti. Ah. Ciao. Figurati. Grazie per i penzili. Mi ha scoperto avere colori. Sì, è vero. Chi sono questi ragazzi? Sono They're Firefighters. That one's a policeman. She's gonna save the day. But what are they? They These are the people that protect Mealsenia. Where are they? Huh... Non ho mai visto uno prima. Sai già cosa è successo. No! Scusa, era suo, ci stava giocando Luigi. No, no. Figurati. Non mi piace sta prepotenza, eh? Dobbiamo educarlo, ragazzi, eh? Sta cosa non mi è piaciuta proprio per niente. Che è? Davvero? Che succede? Marlon? No, 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 no. Non ti agitare, Clem. Non ti agitare che è peggio. Il cane sente la tua ansia. Non c'è bisogno. Perché? Non lo so. Perché ci abbaglia contro, ragazzi? Sì. Sì, purtroppo sì. 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 Ok. Ti stava rimiando addosso. Ti stava rimiando addosso. Sì, ragazza. Sì. Deve superare la sua paura, ragazzi. Forza e coraggio. Forza e coraggio. Forza. Forza. Sì. Amore. Amore. Que terno? Ok. Grazie. Buon appetito! Buon appetito! Molto coraggio! E tu e AJ siamo parte di questo Davvero? E abbiamo bisogno di questo E' troppo bello per essere Vediamo un po', allora, qua c'è la serra E poi che è successo? Eh, bisogna averne cura Ah, bene Avrebbero potuto sfruttarla di più Il terreno di caccia Ah, ok, bene Qua abbiamo la strada Beh, per tenere magari alla larga Gente poco raccomandabile La foresta Che ci rimane qua? Dice mai andare qui Addirittura che sarebbe vicino al fiume La stazione di streni Ah Già È esplosato tutto Non so Non è stata poi colpa nostra Quei pezzi di marda ci avevano messo una granata Perfetto 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 Non so Ti capisco Ti capisco Non permetteremo che accada Perfetto Il punto è che Il punto è che ragazzi C'è, se nella zona sicura le Le propiste scarseggiano L'unico modo è andare fuori Sicuramente Sicuramente Che si parla Ok Ok E', vero Ok Ok Ah Ecco Non lo so ragazzi Che voglio andare a vedere Ehm La zona del fiume Perché comunque nella zona della foresta L'altra volta ci siamo stati ragazzi più o meno per bloccare appunto l'avanzata dei vaganti che era lì per cui direi che andrò a pescare con Violette e Brody Grazie per l'opportunità è una grande opportunità ragazzi ovviamente bisogna collaborare tutti il più possibile per cercare di sopravvivere però stare in gruppo in un posto poi abbastanza sicuro ragazzi è già tanto vediamo un po' come si svolge qua la cosa che figa la mia guida no 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 i wish this old rust bucket was still working we could just jump in and start driving we could take turns sitting in the back it'd be like driving one of those cars with the top that goes down and we'd run out of gas eventually but still it's fun to imagine isn't it yeah i'm back where would you go clem if you could drive anywhere you wanted if gas wasn't an issue or a busted carburetor or flat tires or the transmission buzzkill i'd drive up one of those long roads that wind around the mountains follow it all the way to the top you could see over the whole world up there i bet get a nice view of the world while you die of frostbite sounds like the dream come on vi would it kill you to live a little hmm i've lived here my entire life heck i'd say i know every inch of these woods i'd kind of like to unknown it now you streaming of what could be we've got shit to do ok yeah i guess we should get to work on those fish we got spears inside the shack come on you go ahead i'll stay out here minchia fa la scorbutica violet eh bene vediamo un po' cosa abbiamo qui where are those spears hai detto che erano qui hey about by i'm sorry she's being a little mean it's my fault what do you mean i was there when those walkers killed sophie and mini they were really close with vi and i think she blames me for what happened to them i mean how do you even apologize for something that fucked up you should talk to her about it i'm sure she'll listen yeah right i tried i have it just never seems like the right time we all used to be friends guess i just kind of miss that but when you showed up i don't know i just haven't seen her warm up to someone in a long time le lance sono qui comunque erano qua all'ingresso già ecco comincio ad essere in mezzo eh con questo di me figurati io ci provo eh non ti garantisco niente arriviamo ah ok ecco giustamente tocca a me cercare le altre no guarda caso va bene trovo una lancia perfetto cominciamo a guardarci un attimo intorno a vedere cosa abbiamo a disposizione qua niente qua niente posso interagire con qualcosa molto inutile oserei dire vediamo un po' controlla i j ok erano grandi amiche eh non è non è amore perduto amore perduto ok l'avevo sospettato ragazzi è omosessuale magari erano omosessuali bene così insomma per questo magari ci sta ancora più male ragazzi prendiamo la lancia è lunga e affilata ok ready to get some fish yeah andiamogli eccoci qua se riusciamo a pescare qualcosa mi auguro di si forza vai ecco dai dai ehm 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 mh 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 meglio per noi dai ma quella era per me vabbè come non vedi ma c'era un'altra per me perfetto bene ci provo subito tac ecco oh grande alla prima sembra commestibile vorrei pure vedere perfetto ragazzi più ne peschiamo meglio bene no 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 non volevamo turbarti grazie dai oh siamo qua a pescare dobbiamo guadagnarci la pagnotta ragazzi eh non stiamo qua a perdere tempo il pesce yeah ne sono due dai 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 ma perchè ehm ok eh la tipa è abbastanza erascipita oserei dire ragazzi eh sì ma sti pesci che vanno così veloce sono impossibili da prendere scusane ah ok mi sa che devo per forza provarci con questo che passa qua tac madonna no ma sono una pescatrice nata è pazzesca sta cosa pescatrice non so se il termine è corretto però vabbè nemmeno abbiamo preso qualcosa scusami grande ma che bravo è già uno in più mh mh stai piano ah sì mi sembra scusata forse mi sembra scusata forse mh mh ma le ma sv non nemmeno non si non è sempre la scelta più semplice va bene vabbè sempre qualcosa meglio di niente comunque voglio dire grand canyon what that's where i go if we took a road trip start driving until we had the grand canyon yeah that would be cool thanks hey slow folks come in yeah see see right behind you eh quando si creano sti fraintendimenti è sempre brutto ragazzi perché poi magari uno ha paura di parlare l'altra ha paura di parlare e non ci si chiarisce è un brutto presentimento non mi direi che è successo non mi sembrava di parlare l'altra faccia non mi sembrava di parlare qui non mi sembraiscope non mi sembrava di parlare l'altra faccia non mi sembra in piace vedete avevo detto già e mi puzzava la situazione non mi piace si ma c'è del sangue di chi è? un moussicone di chi è? una sigara intavolata a mano volevo analizzare il resto magari oddio no 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 C'è chi? C'è chi? C'è chi? Respira, respira Oddio Si ma è un coniglio Se si potessero mangiare i sassi saremmo a posto Eh, oddio Non mi dico che devo prendere la decisione di andare più fuori eh Non lo so ragazzi Eh, lo so La granata era giusto lì dentro Clem Ecco qua Se succede qualcosa ovviamente la colpa sarà nostra ragazzi Perché Marlon ci aveva specificato assolutamente di non andare fuori dalla zona sicura Per cui sarà un bel casino Mi sta salvando Oddio Già ho visto ragazzi C'era un mucchio di vaganti spesso così Vedremo quale sarà il nostro destino La prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Obdos a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi che se volete questi aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao